Al posto, ora sulle note eseguite dai ragazzi dei grandi diretti dal ministro Guastafirro sarà suonato dell'ordine l'inno nazionale di Mameli e successivamente con l'ina la gioia come abbiamo detto prima in premessa l'ina la gioia e questa bandiera blu c'è ma l'era gioia è un riscatto, è una rinascita per il nostro territorio, alzeremo la bandiera blu del caffè sulle note del l'ina la gioia di Belone. Buon proseguimento a tutti Grazie 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 Grazie